Ciao a tutti e ben ritrovati! Come potete vedere sono già tornato dalle Hawaii. Sul mio blog, sul mio sito che vi lascio qui sotto in descrizione, sono disponibili già tutte le foto scattate sia sulle tre isole che poi a Venice Beach. Nei prossimi giorni, lavoro, bici e altri impegni permettendo, inizierò il montaggio dei video. Dei video al plurale perché ho talmente tanto materiale che difficilmente riuscirò a stare dentro uno solo. Quindi buona visione, buona lettura e ci vediamo penso presto. Penso.